Buongiorno, sono la professoressa Ada Forneris, insegnante di materie agrarie presso l'Istituto di istruzione superiore Virginio Donadio di Cuneo e con questo video vi vorrei dare alcune indicazioni su come riconoscere le principali conifere delle Alpi piemontesi. Per conifere intendiamo piante che appartengono alla categoria delle gimnosperme, cioè piante legnose, che presentano foglie a forma di ago e che hanno semi che non sono protetti da un frutto ma da una struttura legnosa che prende il nome di pigna oppure cono, da lì il nome appunto conifera. Sulle Alpi piemontesi esistono molte conifere di diverse specie, abbiamo diverse specie di pini, dal pino cembro al pino silvestre al pino mugo, abbiamo poi l'abete bianco, l'abete rosso e l'arice. Ed è proprio su queste tre specie, quindi sull'abete rosso, sulla abete bianco e l'arice, che concentro principalmente la mia attenzione e vi darò appunto delle indicazioni su come riconoscere queste tre specie. Iniziamo da questo gimnosperma, da questa conifera che è la conifera più diffusa sull'arco alpino piemontese e che è l'arice. Prima particolarità di questa conifera è che a differenza di tutte le altre conifere europee, che sono delle sempreverdi e che quindi mantengono gli aghi anche durante il periodo invernale, l'arice invece è l'unica conifera europea a foglia caduca, quindi vuol dire che nel periodo invernale, autunno-invernale, perde gli aghi. Come vedete gli aghi sono riuniti a gruppetti, sono di colore ancora adesso, sono ancora di colore verde e sono piuttosto morbidi al tatto. Con il tempo, qua vedete già che comincia a cambiare colore, nel periodo autunno, tardo-autunno, comincia a diventare di colore giallino l'arice e poi a un certo punto durante appunto il tardo-autunno-inverno perde gli aghi. Produce delle pigne piccoline, vedete qua, di piccole dimensioni che sono diciamo così attaccate alla pianta, rimangono attaccate alla pianta anche per molto tempo, per qualche anno, per poi cadere. L'arice vive normalmente in ambienti di alta quota, fra i 1200 e i 2200 metri, però lo possiamo anche trovare ad ambienti a quote più basse, qua siamo ad esempio, non arriviamo agli 800 metri e la presenza dell'arice è dovuta essenzialmente agli interventi dell'uomo, quindi l'uomo l'ha impiantato anche in quote non sue. Il legno di l'arice è un legno resistente, è un legno che viene utilizzato per fare le travi ed è diciamo così anche resinoso. Altra caratteristica dell'arice che appunto è molto diffuso sulle alpi, questo perché? Perché l'uomo nei secoli passati l'ha favorito, l'ha favorito su altre specie perché i lariceti, quindi i boschi puri di larice, sono pascolabili, cioè nel sottobosco cresce dell'erba e quindi questa erba può essere utilizzata come alimento per i bovini, gli ovini e i caprini. Adesso ragazzi vediamo una seconda conifera che vive sulle alpi piemontesi ed è l'abete rosso. Qua vedete già confronto le due conifere che stiamo descrivendo. Alla mia destra c'è il larice e vedete appunto la chioma dell'arice, una chioma leggera con gli aghi di colore verde e dorato proprio perché sta cambiando colore e sta per perderli, mentre invece sulla mia sinistra vedete appunto l'abete rosso. L'abete rosso con la tipica forma della chioma piramidale da abete di Natale e adesso appunto andiamo a vedere più da vicino le caratteristiche dell'abete rosso. L'abete rosso si chiama abete rosso proprio per il colore della corteccia. Infatti avvicinandoci possiamo vedere che la corteccia presenta una colorazione rossastra. Vedete la colorazione della corteccia è rossastra da qui il nome abete rosso. Caratteristica dell'abete rosso è avere, vedete già, la differenza a livello degli aghi rispetto all'arice. Gli aghi sono molto più duri, sono appuntiti e presentano una colorazione uniforme, verde scuro e questo verde scuro viene mantenuto per sempre perché abbiamo detto che è una pianta sempre verde. Gli aghi sono disposti, vedete, a circolo, a spirale sul rametto così che il rametto ha una forma circolare, è una forma diciamo così cilindrica. Altra caratteristica dell'abete rosso è la presenza delle pigne. Le pigne sono, vedete la differenza rispetto alle pigne dell'arice, le pigne dell'arice erano molto molto più piccole, invece quelle dell'abete rosso sono più allungate, hanno una forma di tipo cilindrica conica. Normalmente sulla pianta sono pendule e poi appunto a un certo punto cadono e cadono intere, quindi quando vedete un abete rosso potete guardare nel sottobosco e troverete appunto le pigne. È una pianta che produce un legno resistente che viene utilizzato per fare travi, viene utilizzato in falegnameria e un legno resinoso. Questa pianta in realtà nelle Alpi piemontesi e nelle Alpi cunesi è poco diffusa, è presente soprattutto nelle zone delle Alpi orientali. Famose sono ad esempio i boschi di abete rosso della zona del Trentino, lì addirittura queste piante assumono caratteristiche, il legno assume caratteristiche eccezionali costituendo il legno di risonanza che viene utilizzato per gli strumenti musicali. Da noi è poco diffusa, la presenza dell'abete rosso da noi è essenzialmente legata agli rimboschimenti effettuati da parte dell'uomo. Adesso descriviamo un'altra conifera importante sulle Alpi cunesi ed è l'abete bianco. L'aggettivo bianco indica il colore della corteccia della pianta che è un colore grigio chiaro che diventa leggermente più scuro sugli esemplari adulti. Quindi veggiamo già una prima differenza fra l'abete rosso e l'abete bianco. L'abete rosso presenta una corteccia rossiccia, l'abete bianco una corteccia di colore grigio chiara. Altra caratteristica, altra differenza fra l'abete bianco e l'abete rosso riguarda gli aghi. Vedete qua gli aghi dell'abete bianco, sono aghi che presentano una punta arrotondata, quindi sono meno pungenti rispetto a quelli dell'abete rosso, sono di colore verde scuro e sono disposti a pettine, quindi lungo i due lati del rametto. Cosicché sostanzialmente noi abbiamo dei rametti che sono appiattiti. A differenza invece dell'abete rosso che vedete qua presentava praticamente degli aghi che erano disposti a spirale sul rametto, cosicché il rametto aveva praticamente una forma cilindrica, invece risulta essere più appiattito quello dell'abete bianco. Altra distinzione, altra caratteristica peculiare dell'abete bianco è il fatto che presenta una pagina inferiore di colore più chiaro, per la presenza di queste due linee argente, in corrispondenza delle quali troviamo le aperture degli stomi. Quindi invece sull'abete rosso questa differenza non c'è, quindi gli aghi sono di colore verde scuro sia sulla pagina superiore che sulla pagina inferiore. Per quanto riguarda le pigne, l'abete bianco produce delle pigne che sono erette e che rimangono praticamente sulla pianta fino a maturità e poi a maturità si sfaldano sulla pianta, si disarticolano sulla pianta. Quindi quando noi camminiamo in un bosco di abete bianco per terra generalmente non troviamo delle pigne di abete bianco ma troviamo essenzialmente solo queste che sono le bratte che costituiscono le pigne che si sono sfaldate sulla pianta. Il legno dell'abete bianco è un legno più tenero rispetto al legno dell'arice o del legno dell'abete rosso, è un legno che viene utilizzato per gli imballaggi e che non presenta canali resiniferi. Però l'abete bianco produce resina, produce resina attraverso delle tasche resinifere presenti a livello della corteccia. L'abete bianco lo troviamo soprattutto in zone più umide, ama l'umidità. Sulle alpi cunesi non è così diffuso in quanto l'uomo è intervenuto negli anni passati per eliminarlo e favorire lo sviluppo di una pianta, di un'altra pianta che è il faggio. Infatti entrambi vivono più o meno a quote simili tra gli 800 e i 1600 metri. L'uomo ha favorito il faggio perché è un'ottima latifoglia per produrre legna da ardere. Oggi le principali boschi di abete bianco li troviamo nelle valli diciamo così con una maggiore umidità e quindi caratterizzate da più elevate precipitazioni che sono appunto la Valle Pesio e la Valle Tanaro.